a a bravo si stiamo a a a a a a a a che un complesso un complesso Sì 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 Grazie. 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 Come va, Gian? Ma mi fa? Ma mi fa mangiare l'abbraccio? Più che altro, lo prende le mani e mi fa più dobbiamo fare l'orto. Ma più che dolore è proprio quando ho fatto il dolore in questa situazione qua facendo che poi va bene che ma non è il palco